Buongiorno, ben trovati al salotto acquatico di Swim Biz, siamo qui oggi a Pietralatra, a Roma, con il tecnico della nazionale russa, Andrea Di Nino, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a te. E ben trovato... Non ti posso rispondere in russo, eh, non mi chiediamo iniziare con queste domande, qui non saprei darti rispondere. Fuga di cervelli, si parla tanto di fuga di cervelli, ma noi ci abbiamo... Dal mio cervello? No, no, in generale in Italia, ed è la verità, italiani da esportazione, di cui essere profondamente orgogliosi, ma farti un'intervista con questa bandiera a fianco, insomma, una certa emozione me la provoca, perché la Russia, insomma, voglio dire, è una delle nazionali più ambite al mondo, una delle nazionali che ha sfornato i più grandi campioni in assoluto, Popov, Salnikov, mi vengono così a mente. Tu sei emozionato? Ma sicuramente è diverso, con tutto il rispetto per Serbia e Trineto Vago, con cui avevo avuto appuntamenti precedenti, è diverso. Sì, ma tu hai avuto, ricordiamolo, hai avuto con ADN Swing Project un progetto internazionale, sei stato tecnico di altre nazionali. Sì, ai mondiali del 2009, diciamo con puntamenti più importanti, ai mondiali del 2009 con la Serbia e alle Olimpiadi del 2004 con Trineto Vago d'Atene, però onestamente ha un peso specifico diverso, la Russia è chiaro, quando si parla di nuoto si parla generalmente di Australia, Stati Uniti e Russia, quindi poter fare un'Olimpiade con loro, quello che probabilmente è la conclusione comunque di un ciclo di lavoro mio, ha sicuramente un significato diverso rispetto a un altro tipo di casacca, quindi c'è onore, responsabilità e anche comunque un po' di sano orgoglio. Tu non farai la grattatina come il nostro amico Claudio Rosseto, ma vai a Londra, tocca i corni, tocca i corni, ma non vai mica a fare il comprimario, certamente alleni degli atleti di un certo qual livello che ambiscono la medaglia. Ma, io guarda Cristian, onestamente penso che l'ambizione quando si parla di un'Olimpiade è comunque posizionare più atleti possibili in una finale, perché qui parliamo comunque può essere di distanze come queste dei 100 metri, il differenziale tra essere tra i primi 5 e tra i primi 10, che però i primi 10 potrebbero anche voler dire essere fuori dal finale, è minimo, si parla di decimi. Noi a Shanghai siamo riusciti comunque a metterne due in finale, questa cosa l'hanno fatta solamente altri due club al mondo, quindi siamo stati tra i tre club al mondo che hanno spiazzato due atleti allenati nello stesso progetto in finale. Riuscire a ripetere lo stesso risultato per me non sarebbe un risultato minimo. Poi una volta che si è in finale, secondo me si muota senza stress, lo stress e le pressioni ce il signor Ferbs e compagnia e tutti gli altri vanno a giocarsi una finale sperando di fare il meglio. Michelino da Baltimora che sembrava facesse l'ultima l'impiede per salutare, per dare l'addio, ma poi fai i trials, sette gare in programma più quattro staffete, mi pare che non sia proprio uno Ferbs da… No, ma Ferbs non ha mai fatto una gara in disarmo, forse l'unica competizione importante è stato forse Montreal 2005 dove lui arrivò post-Atene non totalmente preparato, però onestamente io non mi ricordo successivamente competizioni in cui lui si sia presentato con una forma non ottimale, quindi secondo me il centro del fino è assolutamente il favorito. Senti, invece la nazionale italiana, tu come la vedi da fuori? Sono tanti, ieri sono uscite le convocazioni, 33 atleti presenti, quindi una corazzata che si aspetta molto non solo da Federica Pellegrini, ma anche dai nuovi giovani fenomeni che peraltro alcuni di loro si allenano quasi bordo vasca con te. Sì, noi intanto dobbiamo ringraziare la Federazione Italiana Nuoto, la persona del Presidente, poi appunto Gianfranco Saini e Cesare Butini perché ci hanno messo a disposizione pre-Sette Colli e per questi giorni post-Sette Colli l'impianto dell'acqua citosa dove siamo riusciti a prepararci in maniera ottimale. Abbiamo avuto modo di vederli, loro si allenavano soprattutto ad Oste, però comunque l'abbiamo visti nelle due appuntamenti di Roma e Milano. È una nazionale che si presenta numericamente in maniera molto molto importante e con tante punte, quindi è una nazionale che penso che abbia assolutamente ambizioni di più medaglie, non solo con la campionessa Pellegrini, ma penso da Scozzoli a Dotto, a Magnini, alle sorprese Paltrini, sorprese che poi non sono più perché ormai nuota costantemente sotto il passo del minuto in ogni gara che fa, quindi sono Paltrini. È una nazionale che può avere tante frecce al suo arco. Nuoto spettacolo insomma, nuoto tira sempre di più, non solo come seguito perché mi pare che sia aumentata la platea dei grandi appassionati del nuoto, sarà un'olimpiade. Come sarà soprattutto secondo te questa olimpiade? È la prima olimpiade senza super costumoni e quindi l'attesa... Ma io penso che non ci sarà solo un record del mondo. Se ti ricordi a Shanghai fu solamente l'Oct in grado di battere un record del mondo del periodo cosiddetto gommato. Penso che ci saranno più record del mondo rispetto a Shanghai. Si vuota meglio, si vira meglio, si parte meglio... Ma comunque questa è la conclusione di un ciclo. Ci sono molti atleti che hanno raggiunto probabilmente la loro massima maturità in occasione dell'Olimpiade di Londra, quindi mi aspetto che in tante gare, se non si va a fare il record del mondo, si andrà veramente molto molto vicino. Ci sono nuovi talenti, nuovi nomi, atleti storici che non sono arrivati secondo me ancora al declino della carriera, come dicevi tu prima, Michael Phelps. e quindi secondo me sarà un'Olimpiade spettacolare. In Europa molte nazionali hanno avuto modo di testare questo impianto e con l'impianto noi ci siamo stati a marzo. Un bel impianto, una vasca sicuramente veloce, quindi penso che ci siano le condizioni per avere grandi risultati. Ci saranno sorprese secondo te, tu che sei uno che ha, non dico la sfera di cristallo, ma sicuramente un occhio allenato per le sorprese? Guardando le gare nostre, tra virgolette, cioè 50 stile e 100 del fino dove abbiamo atleti inseriti in gare individuali. Nei 50 stile secondo me il Brasile ha comunque forti carti sull'Oro con Sielo, penso sia difficile pensare. Se poi Sielo, scusi ti interrompo, a Roma non ce l'aspettavamo, almeno una finalina a sette colli e mi sono un po' fermata. Però onestamente Cristian se tu guardi, proprio per parlare di Roma, ancora Cernia, qui c'è il campione del mondo del Cento del Fino, ha notato il Cento d'Orso, il Cento del Fino è arrivato terzo, il Cento stile è andato neanche in finale A. Cioè se sei molto in forma a sette colli, secondo me è poi difficile pensare che tu possa esserlo alle Olimpiadi, perché i tempi sono molto ristretti. Certo. Quindi secondo me nei 50 stile, se parliamo di medaglia d'oro, è difficile pensare che ci possa essere qualcuno più veloce di Sielo. Nel Cento del Fino, nel senso che ritengo Phelps nettamente favorito, però nel Cento del Fino, secondo me, se Phelps dovesse arrivare in condizioni non ideali, secondo me Cernia può essere quello che gli può dare fastidio fino agli ultimi metri. Sarebbe ovviamente una grande sorpresa, perché lui non perde una medaglia da sei anni, se non mi sbaglio. So che è una domanda un po' imbarazzante, sarà l'Olimpiadi di Federica Pelligrini? Ma io penso... Adesso... Ce lo auguriamo tutti quanti! Da tifoso penso di sì, nel senso che ha esperienza, talento, classe, è allenata dal migliore natore italiano, da risultati alla mano, quindi onestamente le condizioni ci sono tutte. Certo, forse è aumentato il numero delle rivali, però è anche vero che una come lei, che penso abbia piacere a vincere con le rivali... Carattere e esperienza. Ma ce le ha, e adesso invece anche qualcuno, forse in qualche anno ha avuto l'assenza delle rivali, che da un lato ha permesso di dire poi a qualche stampa si vince perché non c'è, un po' come dicono poi di Phelps. adesso, secondo me, con la Mufala, Adlington e forse anche la Franklin, chi vince veramente in assoluto il migliore, se lei dovesse riuscire a fare almeno un altro oro, concluderebbe penso una stagione eccezionale. 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 Sei stato molto gentile, noi ti auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per questa Olimpiade, che è la prima Olimpiade per la Russia, soprattutto con un tecnico non russo. Spaziba. Spaziba. Da Svidania. Alla prossima due sui pezzi. Grazie a voi. Buona giornata. Ciao. Ciao.